Salve a tutti, sono Stefano Re, ho scritto Il sole nel bauletto, che è questo volume che raccoglie 15 racconti pubblicati da C1V Edizioni. Il libro è adatto ai bambini della scuola primaria e sono racconti che tengono conto di più tematiche, di più valori e cercano di ancorarsi a quello che però è la realtà, quindi io parlo di storie più che di favole o di fiabe proprio perché le tematiche sono più vicine ai giorni nostri che a Castelli, Re, a Fate, a Principesse. Il libro ha avuto anche una buona fortuna nel senso che grazie all'iniziativa dell'editore c'erano altre edizioni e alle offerte effettuate dai lettori che hanno acquistato il libro per donarlo. Il libro è finito negli ospedali di Roma, nell'iniziativa Il sole nel bauletto in corsia e quindi è stato poi regalato ai bambini. Il libro poi è stato scelto da Microsoft per il Bimbo Day e da ultimo è stato anche tra i bambini della scuola primaria di Amatrice e quindi sono state tutte soddisfazioni mie personali della casa editrice e anche del sole il bauletto stesso perché la valorizzazione di un'opera letteraria c'è nel momento in cui il libro corre di mano in mano e quindi arriva al lettore che lo apprezza.